In questo video andremo a vedere come risolvere e riparare il problema del drifting delle levette analogiche del pad per PS5, il DualSense. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Rintendaro Pazzo. Oggi video di riparazione perché di recente uno dei miei DualSense ha iniziato a driftare sulla levetta destra. Immagino che già sappiate cosa vuol dire drifting se siete qua su questo video. Ed è quella problematica che affligge le levette analogiche e che comporta un input indesiderato quando la levetta poi torna in una posizione di quiete. Che ecco questo input può essere sui vari assi, orizzontale o verticale o nei peggiori dei casi su tutti e due. E in questo video andremo a vedere tre soluzioni che possiamo adottare per risolvere questo problema. Una via software mentre le altre due via hardware, cioè andando a mettere le mani in pasta effettivamente con diversi strumenti che poi vedremo nel corso di questo video. E ovviamente vi spiegherò come fare questa procedura per poi far rifunzionare al 100% un DualSense. Prima di proseguire col video ovviamente vi invito a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui la domenica alle due di pomeriggio. Ogni tanto mi piace portare questi video di riparazione anche se ecco di solito porto più video su hardware, retro hardware e ogni tanto anche videogiochi. Però ecco se vi iscrivete mi supportate e questo mi fa molto molto contento. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali telegram di offerte. Uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon quindi mi raccomando iscrivetevi perché passano delle belle offerte e state tranquilli ecco per garanzia e assistenza sempre al top. Anche questi DualSense c'è caso ecco che li trovate anche a 35€ usati però in perfette condizioni. Quindi mi raccomando dateci un occhio tutti i link sono qua sotto in descrizione. E infine anche vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok dove trovate i vari contenuti short però in versione integrale visto che su YouTube invece vengono tagliati a 60 secondi. Detto questo direi di iniziare con la procedura di riparazione. Il primo passo da fare per vedere se il vostro DualSense effettivamente sta driftando e se sì quanto effettivamente sia grave il problema è quello di collegare il vostro pad al computer. Per poi andare a utilizzare un'applicazione che funziona via browser quindi veramente non dovete installare assolutamente nulla che si chiama Gamepad Tester e vi starò facendo vedere adesso come funziona. Quindi vi basterà collegare il vostro pad al pc in cliccare un pulsante ecco del pad e ecco potrete vedere i vari input che state dando in quel momento. La parte che ci interessa è ovviamente quella delle levette analogiche e in questo caso vediamo effettivamente che questo pad quando la levetta destra viene spostata proprio verso destra e poi viene riportata alla fase iniziale in realtà rimane un input anche se non chissà quanto grave. Però c'è comunque un pochino ecco che viene insomma indicato poi alla console insomma al computer quello che utilizzate di insomma di spostamento verso destra e questa è una cosa che poi si ripercuota effettivamente nei giochi. Vediamo anche per esempio giochi come Final Fantasy 16 sì la visuale quando la andiamo a spostare poi continua a spostarsi da sola ed è una cosa che dà abbastanza fastidio e per questo ecco oggi andremo a vedere come andare poi a risolverlo. La prima soluzione che vi propongo che è anche quella più semplice e alla fine anche banale effettivamente è quella di andare a regolare la zona morta dei controller. In questo caso ecco lo possiamo fare su diversi giochi soprattutto ecco poi se il drifting non è particolarmente grave come nel mio caso e quindi questo vuol dire che andiamo a regolare quella zona in cui il controller effettivamente non va a prendere gli input. Di solito ecco può essere intorno al 10% cioè la prima parte il primo 10% finché spostate la levetta non viene segnalato poi tutto il resto ecco viene ovviamente segnalato come input al videogioco insomma alla console. In questo caso diversi giochi permettono ecco la modifica della zona morta per esempio Fortnite o Call of Duty anche permettono ecco questa impostazione che possiamo customizzare a nostro piacimento. Ovviamente se il drifting non è particolarmente grave ci basterà andare ad aumentare la zona morta magari fino a un 20-30% e vedremo ecco che poi non avremo questa situazione di drifting perché se il drifting ripeto non è particolarmente grave rimarrà entro questi margini e quindi effettivamente non avremo questa problematica. Però ecco se il gioco a cui giocate non ha questa impostazione riprendo ad esempio Final Fantasy 16 non possiamo modificare la zona morta del controller in quel caso ecco non ci basta questa soluzione per porre rimedio al drifting. E adesso direi di passare quindi alla seconda soluzione. La seconda e la terza soluzione prevedono l'apertura del controller e in questo caso ecco vi consiglio di farlo solo se ecco sapete quello che state facendo magari anche guardando questo video vi potete dare una mano e ovviamente dovete anche avere gli strumenti giusti. Questo ecco vi dico se non avete assolutamente niente la vostra prima esperienza c'è caso quasi che vi convenga o comprare un DualSense nuovo oppure se è ancora in garanzia perché comunque i DualSense li acquistate nuovi hanno comunque una garanzia di due anni potete mandarli in garanzia. Se invece ecco magari avete la garanzia scaduta non vi volete sbattere per mandarlo in garanzia aspettare quant'altro e avete comunque degli strumenti vi basta magari poco per recuperarne qualcuno ecco possiamo procedere quindi con la seconda e la terza soluzione quindi con il tutorial che adesso andiamo a vedere. Iniziamo con lo smontare il DualSense per farlo dovremo togliere come prima cosa la parte di plastica che si congiunge con le impugnature. In questo modo ecco grazie a un cacciavite a punta piatta sottile oppure anche un plettino di plastica scopriamo le due vitine delle quattro ecco che tengono insieme il controller. Le altre due sono nascoste sotto i tasti L1 ed R1 che possiamo togliere sempre facendo leva con lo stesso cacciavite e in questo modo verranno fuori le altre due vitine che dovremmo togliere. E una volta tolte queste quattro viti potremo aprire il pad senza problemi togliendo ecco facendo attenzione di sganciare le due clip di plastica frontali che sto indicando in questo momento. Una volta aperto dovremo come prima cosa sganciare la batteria e dopo aver tolto la batteria potremo togliere tutti gli altri cavetti in questo caso partendo dall'unica vitina interna che tiene il portabatteria. Poi ecco possiamo andare a sganciare i flat cable dei vari bramble e grilletti adattivi e poi anche quello ecco per il jack audio e quant'altro. E una volta tolti tutti quanti ecco scopriremo la levetta incriminata insomma anche la levetta di plastica la possiamo sollevare senza problemi e vediamo ecco che c'è anche un po' di sporco qualche pelucchio che potrebbe essere anche il fattore incriminante per quanto riguarda il drifting. Vediamo ecco proprio il movimento che è sul potenziometro orizzontale che sto indicando in questo momento che è quello appunto a essere danneggiato e possiamo sempre con un cacciavite fare leva e scoprire ecco il potenziometro e vediamo che all'interno c'è proprio qualcosina di sporco non so se un pezzetto di plastica o qualcosa che è finito su una delle piste. Usiamo un cotton fiocche imbevuto di alcol per pulirlo e questo sarebbe il secondo metodo che ecco non prevede l'uso di saldatura e che teoricamente una volta ecco pulito e reinserito anche parte del potenziometro all'interno. Diciamo qui è un po' difficile reinserirlo però comunque se state un pochino e avete un minimo di manualità ecco ce la fate e una volta fatto questo potete se avete pulito bene richiudere come sto facendo in questo momento e riassemblare il controller come abbiamo visto dai passaggi precedenti ma facendolo al contrario ovviamente. E teoricamente questo potrebbe bastare almeno in alcuni casi se invece ecco questo non basta perché magari avete la proprio il potenziometro che sia ossidato insomma avete qualche drift particolare dobbiamo andare a dissaldare quantomeno un parte ecco della della levetta in questo caso sempre il potenziometro dell'asse orizzontale. E in questo modo dobbiamo però sicuramente prima di saldare ecco i cavetti per la vibrazione lo vediamo ecco in questo veloce video però ecco vi consiglio sicuramente poi di utilizzare una punta anche un pochino più spessa soprattutto se siete alle prime armi e poi ecco per dissaldare effettivamente il componente in sé se avete ecco un succhi a stagno elettronico è la cosa migliore però ecco con una punta come quella che sto utilizzando ora e una treccia di rame un pochino di flussante riuscite senza problemi. La cosa che poi dovete fare è ovviamente prendere un potenziometro nuovo ma si trovano vi lascio linkati qua sotto nella descrizione e staccare uno dei due cioè se non volete ovviamente risaldare tutta quanta la levetta che anche quello potete farlo io sono andato a saldare un componente singolo nuovo diciamo un potenziometro singolo e in questo modo effettivamente sono riuscito una volta avendolo risaldato risaldato tutti i cavetti e riassemblato il controller a farlo di nuovo funzionare adeguatamente quindi ecco questa sarebbe la terza soluzione però ovviamente implica il fatto che abbiate insomma tutta la strumentazione stazione saldante e altre cose ecco che comunque vi lascio linkate qua sotto nella descrizione se volete acquistare. Quindi detto questo direi ora di passare alle considerazioni finali di questo video insomma di questa riparazione. Ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto la riparazione di questo DualSense io sono contento ecco di esserci riuscito spero che anche voi ci riusciate mi rendo conto che non è una riparazione semplicissima se siete dalle prime armi io ecco non mi reputo sicuramente un esperto anche se un po' il saldatore comunque l'ho utilizzato in passato però ecco è una cosa anche che magari non tutti hanno e quindi per quello vi ricordo come vi ho già detto prima che se avete la possibilità di mandarlo in garanzia mandatelo in garanzia oppure ecco risolvete col primo metodo cioè regolando la zona morta in questo caso ecco andare a spendere tanti soldi per una stazione saldante magari un succhiastanno elettronico più tutto il contorno quindi magari cacciaviti che boh quelli possono fare sempre comodo però magari treccia di saldante stagno e quant'altro ecco potrebbe essere un investimento che se poi ecco non andate a mettere mani su tante altre cose è un po' sprecato quindi davvero in quel caso forse vi conviene prendere un pad nuovo però ecco se vi volete un po' buttare nel file da te nelle riparazioni potrebbero essere ecco degli investimenti che poi vi ripagherete in futuro con tante altre riparazioni magari non solo di pad ma ecco di tante altre cose quindi ecco spero che questo video vi sia stato utile se così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto vi ricordo anche due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello sulla pulizia della ps5 in modo approfondito che abbiamo fatto qualche mese fa mentre il secondo video che vi consiglio riguarda sempre una riparazione del dual sense però in quel caso ecco delle molle che gestiscono i vari grilletti adattivi che molto spesso si vanno a rompere e quindi ecco dobbiamo andare a sostituire detto questo è tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi